slalom il nuovo rasoio da gettare della gillette come un esperto sciatore le due lame di slalom grazie alla testina snodabile hanno sempre il perfetto angolo di rasatura per darti una rasatura facile e profonda come la tua pelle non ha mai provato nuovo rasoio gillette slalom più facile sarà difficile